Ciao a tutti amici dell'acquario, benvenuti nuovi e bentornati agli iscritti. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, creatività e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di voi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Quello che vedremo oggi sono le previsioni generali per la prima parte di febbraio. Vi ricordo sempre che sono letture fatte per un collettivo, quindi prendete solo i messaggi che vi risuonano e lasciate andare il resto all'universo. Se poi volete avere un messaggio più completo potete ascoltare il vostro ascendente e segno lunare. Se qualcuno non sapesse come unire i messaggi di questi tre oroscopi ho pubblicato un video che parla proprio di questo discorso, lo trovate trovate il link nella descrizione qui sotto. Ok. Mostrami. Acquario. Grazie. L'appeso. Cari amici dell'acquario. Qualcuno è in una situazione di stand by in questo periodo o arriva da una situazione di stand by o può darsi che vi stiate prendendo un tempo, che qualcuno abbia bisogno per certi versi di prendersi un tempo di riposo o un tempo di riflessione. L'appeso normalmente fa riferimento a quello che è il guardare le cose, guardare le situazioni da un altro punto di vista, ok? Quindi è un po' il cambiare la prospettiva. Andiamo a vedere perché c'è l'appeso. La temperanza, quindi anche questa è una carta che comunque ha più o meno la stessa energia dell'appeso a livello di velocità, quindi l'appeso è una carta che ha un'energia lente. La temperanza mi parla comunque di pazienza. Può essere che vi stiate proprio prendendo un tempo per cercare di portare un equilibrio, per cercare di valutare un qualche tipo di situazione. Di nuovo c'è un set di denari, un'altra carta di attesa, anche questa, un'altra carta che esprime un'energia molto lenta. È proprio un periodo, secondo me, da cui arrivavate già da gennaio. È come se ci fosse questa sorta di lavoro, se vogliamo, ricettivo, no? Anche un po'. La passività, o comunque quello che è un'attesa diciamo statica, è sempre un po' riferito a quello che è il lato femminile, no? Abbiamo poi anche un 5 di coppe, e il 5 di coppe mi fa pensare a un qualche tipo di pentimento o risentimento che voi abbiate paura di avere inerente a una situazione o una relazione. Abbiamo poi un 10 di bastoni. Il 10 di bastoni normalmente parla di quello che sono i pesi e le responsabilità che ci si porta dietro e che in realtà si avrebbe la necessità di abbandonare, di lasciarsi dalle spalle. Abbiamo un cavaliere di coppe. Il cavaliere di coppe potrebbe far riferimento a una persona che è intorno a voi, a una persona che frequentate, insomma, o a un qualche tipo di proposta che magari sta per arrivare nella vostra vita, ok? Normalmente essendo un cavaliere di coppe fa riferimento a quello che è un sentimento di innamoramento proprio alla persona, all'innamorato, ok? Poi abbiamo il fante di denari e il 9 di spade. Il fante di denari potrebbe essere un'altra figura che comunque è intorno a voi, potrebbero essere due energie della stessa persona, magari un'energia è la vostra e una è quella della vostra persona di interesse o comunque della controparte all'interno di questa relazione. Ognuno poi lo applichi la propria realtà e comunque si parla di quello che è un qualche tipo di studio, un qualche tipo di, come vi posso dire, c'è una sorta di ossessione con qualcuno o con qualcosa e il 9 di spade in effetti mi parla di quelli che sono dei pensieri, se vogliamo, circolari. Sono dei pensieri comunque che portano delle preoccupazioni, portano ansie. Andiamo a vedere nello specifico con i tarocchi come riusciamo a spiegare la prima linea, ok? Io intanto vi ricordo che se avete bisogno di mettervi in contatto con me trovate l'email nella descrizione di ogni video e nelle informazioni del canale. Ok, andiamo a vedere perché abbiamo la temperanza, la luna al contrario, allora luna al contrario e l'ha appeso un'altra volta, quindi di nuovo c'è proprio, allora con l'energia della luna potrebbe esserci un qualche tipo di questione riferita al passato o a un qualche tipo di, sento che più, sì, magari una situazione del passato, magari un qualche cosa che torna nella vostra vita, sempre tipo un atteggiamento, una forma pensiero, una credenza limitante, un qualche cosa nel vostro inconscio che per qualche motivo vi tiene bloccati, vi tiene nella situazione di appeso. C'è la carta della temperanza che comunque parla di quello che è una guarigione, parla di quello anche che è un'elevazione, se vogliamo, delle proprie vibrazioni, ma c'è da fare questo tuffo dentro se stessi. Sento che c'è proprio un qualche cosa che comunque non vi fa vedere bene le cose, non vi fa vedere le cose chiare. La luna, ricordiamoci sempre che fa anche riferimento alle cose che si proiettano, cioè le nostre proiezioni, quindi magari per qualcuno potrebbe darsi che si sta distorcendo un qualche tipo di realtà, un qualche tipo di idea che sia inerente a una persona, una relazione o a una situazione e quindi questo vi crea questo momento di impasse, questo momento di staticità. Allora il 7 di denari è spiegato da il 6 di denari e da un 9 di denari. Quindi qui sento che c'è qualcuno che sta aspettando per la propria indipendenza, è come se ci fosse l'attesa di un qualche tipo di ricompensa, ok? Di nuovo il 6 di denari è una carta che mi parla di equilibrio come la temperanza. Andiamo a vedere, ok grazie, il 5 di coppa è spiegato da un 2 di nuovo il disequilibrio e danno, scusate, 2 pentacoli e 9 di bastoni, ok? Così le vedete? Il 5 di coppa è come vi dicevo è legato a un qualche tipo di rammarico, un qualche tipo di pentimento, un qualche tipo di perdita, no? E io sento che per certi versi si è un po' perso lo spazio personale, perché comunque il 9 di bastoni parla di quello che è il mettere delle barriere difensive, il mettere i paletti, parla comunque di quello che è il difendere i propri spazi, le proprie idee, le proprie ragioni anche solo, mentre il 2 di pentacoli mi dà proprio l'idea, visto che è una carta che parla anche di prendere la vita con filosofia, è un po' come se quello che è questo tipo di decisione, come se, come vi posso spiegare, è come se quello che voleste voi non fosse importante per certi versi e quindi qui c'è questo questo rammarico, questo senso di impotenza proprio e ripeto è molto forte l'esigenza per voi di difendervi. Il 2 di pentacoli parla anche di quelli che sono gli alti e bassi sia a livello economico che a livello emotivo, quindi se contate che il 5 di coppa fa riferimento a un qualche tipo di perdita, io sento, sento in realtà che è più una perdita di, come dicevo prima, di spazi, di autostima, no, però di spazi, di neanche potere personale. Vabbè, dopo mi verrà la parola giusta. Andiamo avanti, 10 di bastoni. Vediamo perché avete questi pesi che non riuscite a togliervi da dosso, di nuovo la temperanza e il carro. E allora il carro normalmente parla di quello che è una direzione. Il fatto che qui io avessi accennato a quello che era la perdita dei propri spazi è proprio un po' questo forse anche, no? C'è la perdita della calma, è come se in questo momento sentiste il peso di un qualche cosa addosso che non vi fa esprimere, che non vi fa andare avanti, che non vi fa andare oltre. Vediamo di che cosa mi parla questo cavaliere di coppe. Fante, guardate, la stessa energia, fante di denari e 8 di bastoni. Può essere che questo tipo di riconoscimento che si sta aspettando qua, questo tipo di indipendenza, questo tipo di movimento che in realtà non c'è, non viene, che sia dovuto al fatto che si aspetti un qualche tipo di comunicazione da questo cavaliere di coppe. Ricordo che comunque il cavaliere di coppe parla di un'offerta, di una proposta, no? Quindi arriva, sta arrivando, nel senso è lì, ok? Il fante di pentacoli però, allora per qualcuno potrebbe fare riferimento a quello che è l'energia di un figlio, ok? O potrebbe fare riferimento a quello che è il dedicarsi con un'adorazione, praticamente, a un qualche tipo di progetto, a un qualche tipo di obiettivo, no? È come se ci fosse in questa fila la voglia di comunicare l'inizio di un progetto. È come se questo carro, da questa parte, questo è il centro della lettura, no? È come se il carro da questa parte prendesse una direzione, ok? Andiamo a vedere perché abbiamo questo fante di denari, perché ce l'ho anche di qua. Un altro fante, allora fante di spade e asso di spade. Allora, l'energia che esprimono questi due fanti è un'energia, i fanti hanno sempre questa energia fresca, giovane, gioviale, capito, giovanile. In questo caso sento che probabilmente per questo tipo di offerta, per questo tipo di proposta, c'è ancora da studiare, c'è ancora da controllare bene delle cose, c'è ancora da andare a fondo. Sento le scritte piccole nei contratti, no? Quando vi dicono leggete tutto, anche le scritte in piccolo, ecco, mi dicono questo. C'è proprio da approfondire gli studi. Andiamo a vedere le nuove di spade, che cosa sono dovuti tutti questi pensieri, tutte queste insicurezze. Allora, 5 di spade, l'altra carta è caduta, la recupero un attimo ed è una sacerdotessa. Ok, bisogna fare luce dentro se stessi. Ok? Io sento che avevate anche la luna qui ed è proprio quello che è il lavoro interiore che vi manca, il portare fuori gli altarini. Per certi versi, la sacerdotessa può parlare di qualche tipo di percezione, se vogliamo, che avete avuto e che in qualche modo vi dà dei pensieri, vi dà delle preoccupazioni, vi crea quello che è una confusione mentale, delle lotti interiori. Quindi io sento che, allora, questo tipo di sblocco, ok, di cui avrebbe bisogno l'appeso, nella prima parte della stesa è uno sblocco che voi aspettate dall'esterno. Ok? C'è un qualche tipo di riconoscimento che voi state aspettando letteralmente dall'esterno. Ma quello che sento io è che il lavoro lo dovete fare voi da dentro. Dovete cercare voi le vostre barriere difensive, quali sono, dove metterle a che altezza, chi far entrare e chi no. Dovete cercare la vostra indipendenza, indipendentemente da quello che dicono gli altri. Dovete chiedervi, ho fatto questo lavoro, l'ho fatto al meglio delle mie possibilità. Indipendentemente da che gli altri dicano quello che vogliono, voi dovete essere a posto con la vostra coscienza. Punto. Fine della storia. L'unica persona a cui dovete rendere conto siete voi stessi. Mentre nella seconda parte della stesa sento che c'è una sorta di evoluzione, ma ripeto, probabilmente le energie avete tanti fanti e comunque c'è ancora confusione mentale. Quello che dovete fare è andare veramente a scavare a fondo di voi stessi. Seguite l'intuito, ok? Perché avete talmente tante spade, talmente tanta mente, che l'intuito in questo momento la luna infatti è girata a testa in giù. Non gli state dando retta, ok? Wow. Bene. Allora, andiamo avanti, vediamo il conscio e l'inconscio con i tarocchi di Osho. Andiamo a vedere che cos'altro hanno da dirvi. Ancora due carte, per piacere e grazie, per i nostri amici dell'acquario. Wow. Tre carte. Il successo. Bellissima carta. Momento per momento è la morale. Wow. Allora, quello che sento qui è che siete consapevoli del fatto che questo tipo di idea, questo tipo di cosa, diciamo, situazione, relazione che qua potrebbe potenzialmente svilupparsi, ma ha bisogno ancora un attimino di essere rivista, io sento che voi sapete, vi rendete conto che è un'idea che potrebbe avere successo. Oppure, se fosse solo una relazione, per capirci, potrebbe essere proprio una relazione che avrà successo, appunto. La morale parla del vostro inconscio. Io sento che qualcuno non si rende conto di avere un qualche tipo di rigidità, di avere un qualche tipo di morale ben impiantata dentro di voi, che comunque vi fa, direi, prendere l'uccelo per lanterna, perché secondo me è questa, se vogliamo, un po' l'immaturità che vediamo, ok? E comunque il consiglio delle carte è momento per momento. Quindi diciamo che per equilibrare questi due lati, per cercare comunque di aversi il successo, ma lavorare su quello che è la morale di cui mi parla questa carta qui, è proprio il lavoro quotidiano, il giorno dopo giorno. Come dice l'energia delfante di denari, applicarsi alle cose giorno dopo giorno, con costanza, ok? Senza pensare troppo al futuro, perché comunque il futuro poi crea ansia e crea anche panico, se poi c'è troppa ansia, ok? Però ecco questo, questo è quello che vedo per voi, bellissimo, bellissimo. Bene, voglio andare a estrarvi ancora una carta delle fatine, io intanto approfitto per ringraziare tutte le persone che mi sostengono con i like, con le iscrizioni, a proposito se non avete ancora messo like al video potete farlo adesso. So che siete in tanti che mi guardate da tutta Europa, da oltreoceano e volevo ringraziarvi perché mi è scaldato il cuore. Grazie. Andiamo avanti, un'ultima carta per gli amici dell'acquario, due carte, ok? Due messaggi, 3, 4, wow! Acquario ricco. Allora, la saggezza dell'albero, questa carta dice che ti aiuta, che le fatine comunque ti aiutano a navigare in quello che è la tua situazione attuale e dice che il suono del flauto vi può rivelare le vostre risposte profonde. A tal proposito, voglio condividere una cosa con voi. Quando ero più giovane, anni fa, c'era una cosa che mi capitava spesso, sentivo i flauti, flauti o violini, ok? Magari succede anche a voi, magari è una cosa che ogni tanto vi sembra di sentire della musica, ok? Ecco, quello è un modo per le fate, piuttosto che gli angeli, piuttosto che le energie sottili, di farvi sapere che sono lì con voi, ok? Magari il vostro livello di elevazione spirituale non è tale da riuscire a captare parole o immagini e quindi arrivano questi suoni, che sono suoni sempre un po' leggeri, angelici, sono suoni molto belli. Fatemi sapere poi nei commenti se vi è capitato. Ok, allora, questa carta parla di quelle che sono le profondità nascoste e vi ricordo che qua avevate la luna, c'è la sacerdotessa qui e dice che c'è qualche cosa nel profondo della vostra mente che è il caso di portare alla luce, perché solo facendo così diventerete poi liberi. Quindi fondamentalmente come quando siete arrabbiatissimi e tenete tutta la rabbia dentro, non va bene, bisogna portarla fuori, ok? Perché tutte le energie inespresse che restano dentro a lungo andare, nel lungo periodo, prendono forma e diventano massa fisica. Possono diventare calcoli, possono diventare cisti. Se non sapete di cosa sto parlando, vi consiglio di andare a vedere nella playlist del canale del corso sui chakra. Ok, andiamo avanti e qui, ok, questa fata parla di quello che è, di quello che sono le tracce del destino, mi piace dire, delle tracce che si possono trovare, cioè quello che vuole dire è, è vero che vedere è credere, ma è anche vero il contrario, credere è vedere. Visto che noi creiamo quello che crediamo, se noi ci concentriamo fortemente su qualche cosa che vogliamo e crediamo di averlo ottenuto, dopo tot tempo questa cosa si crea. Come vi dicevo prima, le energie dopo un po', nel lungo periodo diventano massa, quindi sia quelle negative che quelle positive. Quando un pensiero continua ad essere alimentato, sia nel positivo che nel negativo, prima o poi questo prende forma, si realizza nella vita concreta. E poi abbiamo, wow, bellissima carta, speranza. la speranza è sempre lì, anche quando non la vedi. Le aspettative ottimistiche ti possono aiutare a cambiare una situazione negativa in una situazione positiva. È un po' come quello che dicevo prima, buttare la giusta energia nelle cose, ok? Mandare vibrazioni positive affinché si manifesti qualche cosa di positivo. Wow, acquario, bellissima lettura! Io spero che in qualche modo ti abbia aiutato e ti ringrazio di aver trascorso il tuo tempo qui con me. Ti mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!